Cari spettatori, oggi ci addentriamo in un mistero avvincente e oscuro. Vi siete mai chiesti se Alonso della Promessa, oltre ad essere il padre di Curro, possa essere anche il padre di Yana? Prendete una sedia comoda e preparatevi a scoprire la verità. Partiamo dai fatti. Alonso è un personaggio enigmatico, la cui vita è stata avvolta da segreti e silenzi. Sì, sappiamo che è il padre di Curro, ma ci sono elementi che suggeriscono che potrebbe avere un legame nascosto con Yana. In primo luogo, ci sono delle coincidenze temporali che non possiamo ignorare. I tempi in cui Alonso avrebbe potuto avere una relazione con la madre di Yana coincidono con un periodo della sua vita di cui sappiamo poco. Durante quegli anni, ci sono lacune nei suoi spostamenti e nelle sue attività. Potrebbero esserci lettere, diari o documenti che rivelano dettagli di una relazione segreta? Un altro indizio cruciale è il comportamento di Alonso. Ogni volta che Yana è nei paraggi, sembra esserci una tensione nell'aria, come se ci fosse qualcosa di non detto. Gli sguardi furtivi, i silenzi improvvisi e persino alcune parole dette a metà potrebbero suggerire una connessione più profonda. Ad esempio, una volta Alonso fu sorpreso a guardare una vecchia foto della madre di Yana con un'espressione di nostalgia e rimorso. Passiamo ora alle testimonianze di alcuni personaggi vicini a lui. Alcuni di loro hanno insinuato che Alonso potrebbe avere un altro figlio, ma non hanno mai specificato chi. Prendiamo, ad esempio, la testimonianza di Don Miguel, un vecchio amico di famiglia. Don Miguel ricorda di aver sentito Alonso parlare di una «figlia perduta» durante una notte di bevute. Potrebbe aver fatto riferimento a Yana? E poi c'è Dona Isabel, una governante di lunga data nella Casa della Promessa. Dona Isabel ha ricordato che, poco dopo la nascita di Yana, Alonso era solito fare frequenti viaggi in una località vicina, apparentemente senza motivo. Questi viaggi potrebbero essere stati per vedere la madre di Yana? Inoltre, abbiamo le testimonianze di Maria, l'allevatrice che ha aiutato durante la nascita di Yana. Maria ha raccontato di un uomo misterioso che visitava la madre di Yana spesso, portando doni e medicine costose. Quest'uomo potrebbe essere stato Alonso, che cercava di prendersi cura della sua famiglia segreta. Quando osserviamo da vicino, ci rendiamo conto che gli occhi di Alonso e Yana hanno la stessa intensità e profondità, un tratto che non è facile da trovare in molte persone. Questa somiglianza negli occhi crea un collegamento visivo immediato che ci fa pensare a una possibile parentela. Inoltre, il loro modo di sorridere è quasi identico. Entrambi hanno quel sorriso che si espande dolcemente sul viso, illuminando l'intera espressione e creando una sensazione di calore e familiarità. Anche i tratti del carattere sono notevolmente simili. Entrambi mostrano una certa determinazione e una gentilezza innata, caratteristiche che spesso si tramandano all'interno delle famiglie. Questo potrebbe suggerire che condividano non solo un patrimonio genetico, ma anche valori e atteggiamenti comuni. Queste caratteristiche comuni non sono semplicemente superficialità. Potrebbero rivelare una connessione più profonda e significativa tra i due. Il ritratto di famiglia nella casa di Alonso è un ulteriore indizio intrigante. La giovane donna raffigurata ha una straordinaria somiglianza con Iana, tanto che sembra quasi di guardare una versione antica di lei stessa. Questo ritratto solleva molte domande. Chi è questa donna? Qual è la sua storia? E soprattutto, quale legame potrebbe avere con Alonso e Iana? Esaminare questi dettagli ci porta a riflettere sulle possibilità di un antenato comune. Forse c'è una storia nascosta nella loro genealogia che potrebbe spiegare queste somiglianze sorprendenti. Forse, scavando nel passato, si potrebbe trovare una connessione familiare che unisce Alonso e Iana in modi che ancora non comprendiamo appieno. Le somiglianze fisiche e caratteriali, insieme al misterioso ritratto, sono tutti tasselli di un puzzle che potrebbe rivelare una storia affascinante e complessa. In definitiva, questi indizi visivi non possono essere ignorati. Ogni dettaglio, ogni somiglianza, ogni tratto condiviso potrebbe essere una chiave per comprendere meglio il legame tra Alonso e Iana. La possibilità di un antenato comune aggiunge un elemento di mistero e avventura alla loro storia, spingendoci a guardare oltre le apparenze e a cercare la verità nascosta nel loro passato. Dobbiamo anche considerare i documenti ufficiali. È possibile che ci siano registri parrocchiali, certificati di nascita o vecchi atti notarili che possano rivelare la verità. Abbiamo già trovato un documento che mostra che Alonso era presente nella città di Iana durante il periodo della sua nascita. Un altro indizio che non possiamo ignorare. Inoltre, abbiamo scoperto una lettera anonima, trovata nascosta in una vecchia cassapanca nella Casa della Promessa, che parla di un figlio segreto di Alonso. E infine, le voci. Le voci nella comunità possono spesso nascondere un fondo di verità. Ci sono sussurri che Alonso abbia avuto una relazione con una donna misteriosa intorno al tempo in cui Iana è stata concepita. Questi sussurri potrebbero non essere infondati. Infatti, alcuni anziani del villaggio ricordano di aver visto Alonso in compagnia di una donna sconosciuta in più di un'occasione. Il medaglione identico? Durante una visita alla Casa della Promessa, Iana ha trovato un vecchio medaglione nascosto in una cassettiera appartenente ad Alonso. Questo medaglione è identico a quello che Iana ha sempre portato con sé, un regalo prezioso ricevuto dalla madre anni fa. La coincidenza è troppo significativa per essere ignorata, suggerendo la possibilità di un legame familiare diretto tra Iana e Alonso. Iana, perplessa e incuriosita, si chiede se questo ritrovamento possa svelare nuovi dettagli sulla sua storia familiare e sulle sue origini, portandola a investigare più a fondo nel passato di Alonso e della propria famiglia. La lettera misteriosa Un giorno, una vecchia lettera è stata scoperta nella biblioteca di Alonso, nascosta tra le pagine di un libro antico. La lettera, scritta dalla madre di Iana, parla di un amore segreto con un uomo potente e ricco, il cui nome inizia con la lettera A. La descrizione di quest'uomo coincide perfettamente con Alonso, suggerendo che potrebbe essere il padre di Iana. Il quadro di famiglia Nella sala principale della Casa della Promessa, c'è un quadro di famiglia che mostra Alonso da giovane con una donna e una bambina che assomiglia incredibilmente a Iana. Questo quadro, che risale al periodo in cui Iana sarebbe nata, sembra suggerire che Alonso abbia avuto una famiglia segreta di cui non ha mai parlato. Cari spettatori, la verità è spesso più strana della finzione. Continuate a seguirci mentre esploriamo ogni indizio e ogni pista. Alla prossima puntata, dove approfondiremo ancora di più questo intrigante enigma, restate con noi, perché il caso è tutt'altro che chiuso. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni della promessa.